Torna il mese dello sport di Val Madrera, in cosa consiste questa iniziativa e qual è il significato per la città? Un'iniziativa che parte dal lontano 1982 con Giancarlo Vassena e devo dire lo continuiamo grazie al valore del nostro associazionismo sportivo. Un grazie a tutte le realtà sportive di Val Madrera, sono 35 manifestazioni in 40 giorni, si comincia domenica 25 agosto. È un modo per far vedere la vivacità, la vitalità dell'associazionismo, ma non ci sono solo manifestazioni sportive importanti come la gara di triathlon, ci sono anche iniziative, chiamiamole folcloristiche, culturali, eccetera, che lo arricchiscono. Penso che sia un modo anche per far vedere come la comunità di Val Madrera abbia questo valore così forte che proviene dall'associazionismo che è continuamente alimentato dal volontariato. Siamo contenti perché questo mese lo sport ha permesso a molte associazioni di Val Madrera di poter partecipare. Difatti non vi sono solo le grandi associazioni come la polisportiva o l'OSA, ma anche il Circo Velico Tivano organizza vari eventi legati alla vela. Abbiamo un torneo di basket organizzato sempre dalla polisportiva a fine settembre. Vi sono anche delle manifestazioni culturali come ad esempio la camminata organizzata dalla nuova associazione formatasi qualche settimana fa alla Val d'Ier che percorrerà alcuni luoghi storici di Val Madrera, Preguda, San Tommaso per poi concludere l'orto botanico sempre a fine settembre, ma anche l'organizzazione della festa country che sarà in contemporanea con il triathlon il weekend dell'8-9 settembre.